Buonasera, ci vorrei solo pubblicizzare un piccolo evento se possibile, che si svolgerà domani. Le pubblicità si facciano? C'è saccio, a pagamento. Pubblicità, a pagamento e gratuitità. A pagamento, a pagamento. Entro i due minuti. Ora questo è sempre ridicolo. Ma niente, domani ci sarà una partita presso il campo sportivo qui a Montenegro, tra i giovani democratici e i ragazzi del giovane d'Italia. Le bolle l'hanno vissuta, quindi ci è il giovane d'Italia. C'è un po', 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 c'è un po'. Ovviamente il ricavato andrà in beneficenza e sarà destinato al reparto di onco-ematologia pediatrica di Lecce. Quindi non so, se volete venire, se non avete nient'altro da fare, ci farebbe piacere.